Oroscopo Luglio 2023 per tutti i segni secondo Artemide Amore riscoprirai la passione questo mese, Ariete Le stelle favoriscono nuovi incontri e il rinnovamento delle relazioni esistenti Ricorda di stare attento con le tue parole e le tue azioni per evitare fraintendimenti Salute questo mese potresti sentirti un po' stressato Lavoro durante questo periodo possono sorgere opportunità professionali Amore il tuo carisma sarà sotto i riflettori questo mese, Toro Usa questa energia per ravvivare la tua vita amorosa Ma fai attenzione a non diventare troppo possessivo Salute sentirai un forte bisogno di stabilire una sana routine Il tuo corpo ti ringrazierà se lo ascolti Lavoro sarà un mese fruttuoso per i tori, soprattutto se lavori nel settore creativo Aspettati nuove opportunità e avanzamenti di carriera Amore potrebbero esserci delle tensioni in amore, gemelli Cerca di comunicare apertamente con il tuo partner per evitare malintesi Salute prenditi cura del tuo corpo e della tua mente Potrebbe essere necessario ritrovare l'equilibrio dopo un periodo di stress Lavoro questo mese potrebbe metterti alla prova Sei pieno di idee creative, ma potresti avere difficoltà a metterle in pratica Organizzati e avrai successo Amore il tuo partner potrebbe aver bisogno di più attenzioni questo mese, cancro Mostra il tuo affetto e vedrai che l'amore rifiorirà Salute potresti sentirti un po' stanco e aver bisogno di riposo Non ignorare il tuo corpo quando ti chiede di rallentare Lavoro sarai molto impegnato e potresti sentirti sopraffatto dalle responsabilità Cerca di delegare dove possibile e mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata Amore le relazioni potrebbero essere un po' tumultuose questo mese, leone Potrebbe essere necessario fare alcuni compromessi per mantenere la pace Salute dovrai prestare attenzione alla tua salute e assicurarti di allenarti regolarmente e mantenere una dieta sana Lavoro potresti affrontare delle sfide, ma il tuo spirito combattivo ti aiuterà a superarle Non perdere di vista i tuoi obiettivi Amore il mese di luglio può portare tensione nelle relazioni Potrebbero esserci delle incomprensioni o situazioni che richiedono pazienza e comprensione È importante mantenere la calma e non farsi sopraffare dalle emozioni È un buon momento per riflettere su cosa vuoi veramente da una relazione Salute osserva la tua energia fisica e mentale, vergine Il super lavoro e lo stress potrebbero mettere a dura prova la tua salute Il tuo corpo potrebbe aver bisogno di più cure e attenzioni durante questo mese Lavoro questo mese potrebbero emergere sfide professionali Se ci sono progetti in corso, è importante rimanere concentrati e organizzati Amore luglio potrebbe portare nuovi incontri interessanti per i single Per coloro che hanno una relazione, questo mese potrebbe portare un rinnovamento dei sentimenti È un momento favorevole per comunicare e rafforzare i legami Salute le energie di questo mese ti incorag Grazie a tutti Grazie a tutti